le retinopatie sono dovute all'eccesso di zucchero che è nel sangue e non entra questo è l'insulino resistenza quindi il pancreas funziona ma non serve ad abbassare la glicemia ok? più avanti più avanti e più alto più alto va bene tanto lì si vede è troppo basso no così è troppo basso non si vede davanti le mettono un po' più alto è sotto che lo leggerò io ok grazie ecco una biglietta che ho trovato modificato in inglese persona al supermercato che gli chiede al commesso non avete nulla senza i pericolosi acidi grassi idrogenati cioè margarete si dice le sigarette a bianco e avrei qualche dubbio anche le sigarette che non ci rifilino dentro anche gli acidi grassi idrogenati tanto sono così ubiquitari che le trovate dappertutto e qui la vignetta che dice non sono nata acida è la gente che mi ha cambiato il pH che cos'è il pH del terreno? ecco qui entra in un argomento estremamente importante e delicato perché tutti gli alimenti tra virgolette che vi ho fatto vedere prima quindi cereali raffinati gli zuccheri le proteine di origine animale compresi i grassi di origine animale che cosa fanno? producono degli acidi metaboliti cioè dopo il nostro metabolismo cioè dopo la nostra digestione producono delle ceneri acide queste ceneri acide dove vanno? devono essere tamponate dal sistema vi ricordo che il nostro sistema è un organismo alcalino non a caso il palermo ci ha dato un pH del sangue che è 7.365 sopra il 7 siamo nella basicità o alcalinità sotto il 7 siamo nella acidità per qualcuno se non ha in mente la scala del pH quindi l'organismo umano a parte la vagina nella donna e lo stomaco nell'uomo e nella donna il resto quasi tutto è alcalino o alcalino o alcalino o alcalino quindi quando noi produciamo degli acidi l'organismo deve tamponarli e li tampona con cosa? con dei minerali e se noi non li mettiamo dentro con l'alimentazione sapete dove li trovi i minerali dell'organismo umano? dai denti carie dai capelli dalle unghie mamma mia continuo ad andare ah dall'estetista perché ho le unghie che si sfibano non serve niente nell'estetista spero non ci sia estetista qua andate ma le unghie si nutrono dal sangue quindi se voi perdete minerali dalle unghie e non serve niente nell'estetista dovete alcalinizzarvi poi viene perso viene trovato i minerali vengono trovati da un cuoio cappelluto dalle ossa abbiamo osteoporosi o prima osteopenia poi osteoporosi ma poi anche da dove? da tantissimi organi vitali più o meno che adesso vedremo quindi gli acidi che cosa fanno? devono essere tamponati creano infiammazioni le infiammazioni del tuo corpo umano fa aumentare in altri ghiandoli che sono le surrenali fa aumentare il cortisolo che è un altro ormone chiamato l'ormone dello stress perché più siamo stressati più siamo acidificati e più abbiamo il cortisolo che cosa fa il cortisolo? purtroppo il cortisolo fa aumentare la glicemia fa aumentare il tessuto adiposo della panzetta che è un tessuto molto attivo nell'ambito dell'insulino resistenza ecco perché certi diabetici hanno proprio la panza molto prominente perché è un grasso molto sensibile nell'ambito del diabete e quindi abbiamo che il cortisolo che viene secreto dall'organismo per tamponare le infiammazioni che noi abbiamo creato ci squilibra tutto il metabolismo nel diabete e c'è l'edecane che si morde la coda da quale possa sicurare non ne usciamo non ne usciamo se non spegniamo le infiammazioni se non spegniamo e riduciamo le acidificazioni e tornando indietro vediamo a quanto importante è il nostro stile di vita guardate qua globuli rossi nel sangue che sono liberi di scorrere vedete che sono tra loro separati i globuli rossi hanno sulla membrana una carica elettrica negativa sapete tutti più o meno che cariche elettriche uguali si respingono quindi tra loro i globuli rossi si possono avvicinare ma fino a un certo punto poi c'è la repulsione elettrostatica ok questo è il sangue di una persona sana quando il nostro sangue inizia a diventare sempre leggermente attenzione non può mai diventare acido il sangue sotto senza se non moriamo però basta qualche decimo in meno del pH per far sì che cosa che gli elettroni della superficie cellulare si staccano perché gli elettroni lavorano in funzione del terreno del pH del terreno e quello che vedete lì è il sangue di una persona con il sangue ovviamente più sano quindi tendente all'acido qui i grandi della medicina danno il cumadine e l'aspirinetta cioè per fluidificare il sangue invece di arrivare a comprendere che magari è legato dico magari sto vedendo per caso per caso esatto è legato al nostro stile di vita cioè a un'iperacidificazione del nostro terreno organico che non è solo il sangue la linfa e tutti i liquidi extracellulari guardate la differenza che ci sono tra i due sangue tra i due sangue che è chiaro che qui le glopoli rossi riescono a portare l'ossigeno a tutti i nutrienti dove servono è chiaro che quello lì no anche perché se guardiamo questo è un'immagine di un capillare del fegato questo verde che vedete è la linfa guardate il globulo rosso è praticamente quasi grande come il capillare quindi quando il sangue scorre nei capillari è come se si mettesse in fila indiana per entrare comodamente ecco secondo voi un sangue del genere potrà mai arrivare a penetrare correttamente tutti i capillari del corpo? no e dove non arriva il sangue partono i processi fermentativi e per qualcuno anche si chiamano processi tumorali perché se non arriva il sangue le cellule possono andare in fermentazione e possono solo che riprodursi costantemente quindi diventano cellule indifferenziate quindi va bene questo è un altro discorso però esatto 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 proprio il grande John Tilde quindi quando il pH inizia a diventare sempre più acide questo è il nostro stile di vita quindi alimentazione pensieri aspetti emozionali ci mettiamo negli aspetti spirituali visto che noi siamo un essere globale è chiaro che abbiamo problemi in tutti gli ambiti perché il primo a soffrirne è il tessuto più importante del corpo umano che è il sangue chiaro? ecco qua la scala del pH sotto il 7 c'è la salute sotto il 7 c'è la malattia il tumore in certi ambiti è un pH 5.5 come vi dicevo che è parecchio più basso del 7 quindi siamo proprio nell'acidosi il tessuto cardiaco per esempio ha un valore di 6.5 6.4 quindi è acido però leggermente acido e basta che arrivi intorno a 6.4 6.3 e il tessuto muore questo viene chiamato infarto vedete quanto noi siamo dipendenti dal pH del sangue il pH del tessuto connettivo è 7.1 7.25 e se diventa sotto il tessuto connettivo che è la matrice dell'intero organismo può bloccare questo scambio perché la matrice permette lo scambio poi tra le parti superiori e interiori del corpo quindi quando il tessuto connettivo inizia a diventare sotto il 7 si blocca e quindi si bloccano tutti gli scambi sono piccoli esempi per capire quanto noi siamo dipendenti dal pH organico questa frase è meravigliosa perché vi fa capire quello che è l'essere umano quello che non riescono a eliminare reni e lescica quindi con l'urina deve essere eliminato dall'intestino quindi con le feci 9 persone su 10 sono stitiche quindi figuriamoci ciò che non riesce a fare quest'ultimo l'intestino non deve fare i polmoni con la respirazione nessuno di noi respira correttamente quindi figuriamoci come siamo se tutti questi organi non riescono a eliminare i veleni deve intervenire la pelle che è l'organo più grande quindi iniziamo a avere eczemi psoriasi dermatosi che poi la medicina da tanti bei nomi uno è il problema intossicazione e quello che nemmeno la pelle riesce a eliminare ci porta alla tomba ecco questa ha circa 5.000 anni questa frase tanto per capire la conoscenza degli orientali veramente mi lascia ogni volta stupefatto proprio bene il risultato di tutto quello che vi ho detto finora alimentazione basata su proteine di origine animale che acidificano non hanno vitamine non hanno enzimi non hanno fibra e ci rendono stitici cereali raffinati non hanno vitamine non hanno minerali non hanno enzimi non hanno fibra e ci rendono stitici zuccheri non ne parliamo e tutti questi acidificano quindi il risultato di tutto questo è che siamo in una condizione paradossale perché stiamo facendo diventare obesi i bambini da noi si dice bello in salute ecco siamo lontani di luce dalla realtà ecco lì è già in acidosi con la creatura e quindi già predisposto a parecchie patologie tra cui l'obesità quasi di sicuro ma anche tutto il resto ma non solo stiamo facendo diventare obesi anche i nostri animali da compagnia io questo non ci credevo però ho tornato una signora che doveva fare l'insulina al cane col diabete che io non pensavo potesse e invece mi sono riuscito che tutto può accadere perché questi esseri si stanno accollando anche le nostre magari le nostre malattie e quando ho saputo questo ho detto veramente non c'è più limite all'ignoranza umana ecco la teoria dell'evoluzione secondo McDonald's stiamo andando adesso stiamo andando verso l'obesità per la contendenza delle case farmaceutiche ecco qua il risultato Alzheimer 80 milioni di persone sarebbero malate quando ho letto questi dati sono riempi peraltro più volte ho detto forse ho sbagliato qualcosa c'è qualcosa che non va no no stiamo parlando veramente di una degenerazione globale del cervello dell'essere umano cancro non perdo neanche tempo perché sappiamo tutti ed è impossibile non avere un parente un amico o un familiare che o lo sta vivendo oppure l'ha vissuto guardate il costo sociale se poi ci chiediamo ma veramente qualcuno con 900 miliardi di euro vuole veramente sconfiggere il cancro rispondete voi perché io la mia risposta sarebbe già scontata in Italia in Italia come dicevo 1160 nuovi casi al giorno 1169 casi di tumori al giorno sono dati annuali sono dati giornalisti quindi ci porremo delle domande o va tutto bene anche se leggiamo che ormai è un vero Umberto Beronese il cancro sconfitto la pillola è lì il vaccino era lì ancora non so vent'anni fa sarà io continuo a vedere persone che entrano e che non escono parlo sempre nell'ambito ufficiale mi raccomando quindi ci porremo delle domande o no ma lui l'ha messa la dieta come elemento di guarigione però Beronese no? non so chi parla Beronese Beronese l'ha messa la dieta come base vegetariana vegana certo ma adesso Beronese che ormai è lì per lasciarci si sta lavando la coscienza fa un digiuno a settimana quindi lui fa un giorno di digiuno a settimana scrive un libro sul digiuno quindi è chiaro adesso le cose lui le sa benissimo ma le sa da tanti anni posso aggiungere una cosa? se veloce sapeva benissimo di questo perché ho letto degli articoli ma se lo teneva perché aveva paura dell'ambiente medico quindi lui si è sempre trattenuto dal dire che l'ambientazione era importante perché aveva paura dell'ambiente medico io sono un medico quindi lo dico proprio perché ecco sì come era guardate qua molto velocemente le domande le domande siamo alla fine perché sennò non ne veniamo più fuori di solito guardate qua sono la distribuzione dei tumori per quanto riguarda uomo e donna se andiamo a vedere i tumori legati all'inquinamento quelli legati agli ormoni sensibili quindi stare molto attento ai derivanti animali soprattutto al latte latticini yogurt e tutto quello che deriva dal latte perché pochi soprattutto nell'ambito dei centri di ricerca per l'oncologia non dicono che uno degli alimenti che più squilibra gli ormoni sono i latticini perché? perché il latte di una vacca gravida è fatto per far sviluppare un vitello ma qua si fonda una porta aperta lo so è fatto per far sviluppare un vitello farlo diventare 300 chili in 6 mesi non è un bambino dell'essere umano non deve diventare 300 chili in 6 mesi è una doppia solo di peso in 6 mesi è chiaro che però il latte che noi diamo il latte vaccino intendo è stracarico di ormoni quindi quando una donna lo prende gli va a lavorare nelle ovaie nell'utero nella tiroide nel seno non a caso e nella prostata dell'uomo non a caso sono i tumori numero uno nell'uomo e nella tua prostata e seno guarda caso comunque se alimentiamo quelli alimentari assieme agli ormoni sensibili che sono strettamente legati all'alimentazione a quelli dell'inquinamento e vi ricordo che la maggior parte dell'inquinamento arriva sotto forma di grassi animali soprattutto i metalli pesanti andiamo a vedere che la stragrande maggioranza dei tumori sono legati al nostro stile di vita quindi alimentazione mondo dei pensieri sentimenti emozioni eccetera eccetera va bene quindi è chiaro che il nostro stile di vita gioca un ruolo importante che ci piaccia o non ci piaccia nel totale di perbitro io sono qua a insegnare niente a nessuno io dico quelle che sono le mie conoscenze che poi ho trasferito nei libri poi sono riuscito a portare quello sul diabete con una quindicina di ricette di dolci squisitti perché il problema del diabetico sono proprio i dolci cavarsi sul sfizio dello zucchero e l'altro invece sul cancro dove è un'analisi abbastanza impietosa però su quelle che sono i protocolli ufficiali con costi eccetera eccetera ecco problemi di cuore un americano su due e una donna su tre avranno qualche malattia cardiaca queste sono le previsioni da oracolo di delfi in nero però naturalmente io ho il corvo che vi diranno tranquilli tanto una su tre avrà un infarto un ischievio e un uomo su due tirate pure il dado ma uno su due avrà qualcosa ecco questo vi fa capire qual è la condizione odierna 500.000 persone muoiono per una coronapattia solo in America ogni anno un milione e mezzo di attacchi di cuore 3 milioni hanno infarti silenti hanno un piccolo infarto non se ne rendono conto più o meno ma sentono qualcosa però non è letale ecco costo 753 miliardi di dollari anche qui si può intervenire con lo stile di vita? certo che sì uno dei nostri che poi ve lo farò vedere uno dei testimoni che sono guariti dopo 16 anni di insulina con 3 infarti aveva il bauletto di farmaci che doveva prendere ogni giorno dal protettore gastrico al Pumadine al quello per l'ipertensione quello per il tiadete l'insulina eccetera adesso dopo 4 anni gli stili di vita sanno puntato via tutto continua a fare visite cardiologiche ed è perfetto lui doveva fare una coronaropatia cioè dovevano aprirlo perché aveva una coronare che era occlusa non ha più niente senza operazione gli è costato 3 infarti prima di svegliarsi dall'incubo e iniziare a cambiare la stile di vita però ricordate sempre dal punto di vista esoterico o ci arriviamo per conoscenza o ci arriviamo per sofferenza ecco sarebbe meglio arrivarci per conoscenza prima di essere ricoverati in ospedale anche perché 710.000 persone solo in America cardiopatie ogni ora quindi pensate solo in un paio d'ore è qui che staremo insieme 160 persone sono morte per cardiopatie negli Stati Uniti d'America un ictus colpisce 167.000 persone sempre nell'ambito degli Stati Uniti d'America ogni giorno sono 20 persone in Italia non è che stiamo tanto meglio rapportando la popolazione americana e siamo lì come livello patogeno e quindi abbiamo 223.000 malattie cardiovascolari 25 persone ogni ora morono infarto del miocardio e ictus cerebrale a tutto questo si può intervenire se ve lo ripeto se bisogna tirarsi sulle maniche e iniziare a cambiare qualcosa cambiare il modo di pensare cambiare stile di vita cambiare qualcosa nel totale libero piccolo diabete ecco qua la pandemia del secolo dopo il cancro previsioni dell'OMS invece di dire entro 2030 diabete è un ricordo l'abbiamo debellato no mezzo miliardo di persone avranno diabete spesa sanitaria 376 miliardi di dollari entro 2030 arriveremo a 500 miliardi se sommiamo diabete cancro e le altre le guerre fanno ridere come spese belliche fanno ridere in confronto a quello che ruota attorno all'industria della chimica farmaceutica cioè alle case farmaceutiche ogni 10 secondo una persona muore per cause legate al diabete due si ammalano e un bambino su tre avrà il diabete da adulto secondo il CDC il tristemente noto cento di per le ricerche delle malattie di Atlanta ufficialissimo tranquillamente dice che un bambino su tre avrà sicuramente il diabete da adulto forse sperano che un bambino su tre avrà il diabete mi raccomando anche perché quello che ruota attorno io mi sono fatto per un toto di tempo i test quindi mi bucavo con un diabetico per misurarmi la glicemia e un giorno è andato in farmacia per prendermi gli aghetti chissà sa meglio di me sono andato prendermi gli aghi e il farmacista giustamente mi chiede la ricetta no mi dia una scatoletta di aghi quanto costerà mai una scatoletta di aghi sono aghi che ne vengono usate 5-6 al giorno per il minimo sono 4-5 misurazioni ecco diciamo tre minimo in alcuni casi anche 4-5 al giorno mi da la scatoletta con 60 aghi e mi spara 60 euro grazie l'ho lasciati là ovviamente un euro ad ago noi non sappiamo queste cose perché tanto paga il sistema sanitario ma paghiamo tutti con le tassi ok quindi cosa ruota attorno al diabete sono cifre spaventose poi ci sono le macchinette i glucometri c'è l'insulina che è un prezzo anche perché è transgenica ci sono tutti gli esami del sangue la glicemia la glicate eccetera eccetera bene ecco qua le associazioni che ci stanno cioè che ci odiano devo proprio dirlo perché ogni volta che organizziamo qualcosa fanno di tutto per boicottarci a Brescia pochi mesi fa abbiamo fatto un congresso i nostri congressi lo dico sono completamente liberi uno può entrare non metterne anche un euro qui non c'è piste siamo tutti volontari anzi più soldi che escono di quelli che entrono non ne stavolta parlando abbiamo organizzato a Brescia io non sapevo che a Brescia è una delle associazioni diabetiche più potenti d'Italia scusate l'ignoranza io non lo sapevo ci hanno detto bene farlo a Brescia non loro poi un altro abbiamo fatto la richiesta della sala la sala la danno gratis a tutti tutte le associazioni noi ci hanno dato la sala a gratis abbiamo chiesto il patrocinio detto spariamo alto patrocinio della provincia e ci hanno dato il patrocinio col convegno tutto quanto sul diabete bene è arrivata una telefonata in comune provincia ci hanno tolto il patrocinio 600 euro la sala che hanno dovuto pagare perché ormai il convegno era quindi ci abbiamo rimesso per quel convegno la e chiaramente hanno alzato il telefono hanno detto guardate Cristiano abbiamo fatto pressione queste sono le pressioni di Loppi che mi hanno fatto per capire passato il convegno ci abbiamo rimesso è stato un successo purtroppo per loro saranno venuti inacidosi i vari membri dell'associazione poi con un avvocato abbiamo fatto richiesta del rimborso perché la sala era gratis ci hanno ridotto anche indietro incredibilmente perché hanno una coscienza molto sporca ci hanno andato indietro anche i 600 euro sono andati felicissimi però per farvi capire cosa si sta muovendo in questo momento io non potrei dirvi che il diabete è guaribile io continuerò a dirlo finché mi lasceranno in vita naturalmente continuo a dirlo perché io lo sto vedendo ogni giorno anche dopo 20 anni di utilizzo di insulina va bene non a caso abbiamo fondato questa associazione proprio per testimoniare con casi umani io non potevo venire qua con loro ma quando mi muovo in Veneto vengono le testimonianze quindi dopo la mia introduzione che serve a un certo punto quando sentite parlare uno che l'ha vissuto sulla propria pelle che ha avuto tre infarti che è stato preso con l'elissocorso così per i capelli perché era già sanottico ed era quasi in fin di vita che da 15-20 pastiglie al giorno nessuno prende più niente lo vedete in fronte della foto è rinato oppure altri con diabete tipo 1 piuttosto che altri obesi che hanno perso 30-40 kg in un mese capirete che c'è qualcosa che va al di là delle mie parole perché sentite un'esperienza vissuta che vale 100 volte quello che io vi dirò queste sono le associazioni che si occupano del diabete quelle che dovrebbero curare che non curano niente quelle che continuano a dire le due fette biscottate del mulino bianco con diabete con la mattina tanto per capire a che livelli siamo io sono andato nel sito ho visto ma chi sono i soci sostenitori interessante quella parola partner sostenitori questo è nel sito ufficiale qui non possono dirmi niente sono tutte le principali case farmaceutiche che scolgono insulina agli glucometri ecco quindi figuriamoci se questi possono dirmi qualcosa a me che io non ho compatti collegamenti con nessuno se non con la mia coscienza Novartis Elilili che fa una buona insulina e tutto il resto ecco tutto il resto sono sono tante abinarine si ma c'è pure l'insulina non è che è c'è anche l'insulina non è grande questo non lo so è quella dell'85 è particolarmente buona stagionata quindi trovando la risposta guadagnia di diabete si può assolutamente si si può bisogna cambiare modo di pensare bisogna cambiare stile di vita bisogna tirarsi sulle maniche che vi possa assicurare che non è così semplice e vi ho portato qua qualche prova concreta addirittura Asla di Milano siamo in Lombardia dice i medici diabetologi consigliate la dieta vegan sta venendo fuori ormai sapete la verità è figlia del tempo ed è solo questione di tempo che ormai non riescono più a trattenere la verità ormai sta traccimando tutto la verità è che l'alimentazione a gioco un ruolo è importantissimo perfino i medici della Asla di Milano stanno consigliando e questi sono tutti studi che adesso non perdo tempo a leggere pubblicati nelle riviste principali del diabete dove un regime vegetariano e o vegano hanno degli impatti enormemente positivi li trovate tutti dove se mettete PubMed che è il principale database mondiale dove vengono pubblicati tutti gli studi ufficiali mettete pubmed.gov quindi è governativo e non c'è dietro un'associazione oltre il diabete ci sono dietro proprio i principali enti federali americani www.gov.gov che è il governativo voi mettete il diabete e vedrete venire fuori tantissimi studi sempre di più su alimentazione movimento nell'ambito del diabete solo nel diabete però lo trovate anche nel cancro ecco qua principi nutrizionali raccomandazioni del diabete dieta vegetariana riduce l'insorgenza del diabete punto di domanda è lo studio sì dieta vegetariana preso corporeo per lezze di diabete tipo 2 altro studio studio sugli avventisti gli avventisti del settimo giorno è una comunità tra le più longeve nel mondo li hanno studiati hanno visto che per il loro studio di stile di vita hanno alimentazione di un certo tipo non proprio perfetta però molto meglio di tante altre e hanno visto che hanno molto meno mortalità e il diabete è più basso rispetto a altre comunità quindi hanno studiato e questo è interessante da vedere restazione di frutta nel diabete tipo 2 che questo è molto interessante perché hanno diviso i due gruppi di diabetici e a uno hanno dato molta frutta perché sapete consigliano le fette biscotate e i centri antidiabetici la frutta invece è il velino numero 1 quindi guai la frutta fette biscotate nel melino bianco sì che è zucchero è stato pure ma la frutta no bene questo studio ufficialissimo che lo trovate nello studio si chiama EPIC hanno dato un gruppo più frutta a un gruppo meno frutta guardate il risultato dopo un certo quantitativo di tempo che il gruppo con maggior frutta ha avuto una diminuzione dell'emoglobina glicata di 0,50% rispetto allo 0,29 del gruppo con poca frutta e io lo sto vedendo tranquillamente la frutta non crea problemi nel lungo termine è chiaro che se non è abituato a mangiare un diabetico che si mangia un melone la glicemia schizza su è ovvio la frutta ha zucchero però non ha solo zucchero ha tutte le sostanze utili quindi nel lungo termine andando avanti consumando frutta nella maniera corretta cioè lontano dai pasti perché la frutta è deleteria dopo un lontano nel lungo termine questo riduce la glicemia quindi aiuta il diabetico questa è un'eresia vi sto dicendo sto bestemmando in chiesa perché la frutta è veleno allo stato puro per i medici questo è biscottato e noi è il pavessimo il filano è il pavessimo è il pavessimo è il pavessimo è il pavessimo si esatto devo eliminare la frutta per via di pesticidi ecco chiusa la parentesi fotosintesi clorofiliana perché? perché questo è uno dei processi più importanti che esistono in natura e che pochissimi sono in grado di comprendere anche perché ce la fanno studiare in terza e alimentare che non siamo in grado di capire anzi è il sole di giorno di notte è l'inverso bene questo è uno dei processi di alchimia allo stato puro ma proprio di alchimia perché attenzione che tutto quello che noi mangiamo deriva da questo da questa meraviglia che avviene ogni giorno dove? nel filo d'erba banalmente quindi tutto quello che ha a che fare con la vita umana e la vita animale dipende dalla fotosintesi clorofiliana mediante questo sistema le piante le aghe alcuni batteri che cosa fanno? riescono a catturare l'energia del sole trasformata non sappiamo come perché noi siamo in grado di fare i grandi ciclotroni questi mega attrezzature spaziali in grado di accelerare gli atomi noi non siamo in grado di fare quello che un filo d'erba fa ogni giorno e cioè prendere il sole e trasformarlo e da energia farlo diventare materia cioè zucchero che è quello che si produce nella fotosintesi clorofiliana quindi catturo l'energia solare per produrre lo zucchero che è il principio base dell'alimentazione umana zucchero non si intende sol saccarose che noi pensiamo nel bar ok? l'energia luminosa viene trasformata in energia chimica energia chimica che permette la vita agli animali e agli esseri umani guardate questa piramide che mi ha fatto mi ha fatto e la mia lascia che mi ha fatto